Ciao a tutti, sono Max di Oram e oggi siamo qui per vedere nel dettaglio due tra i caschi jet più performanti disponibili sul mercato odierno e parliamo di due top di gamma, uno di Schubert LM1 e l'altro di Shoei, il J-Cruise, con i relativi sistema di interfono dedicati. Vediamo ora in dettaglio J-Cruise con il suo sistema studiato appositamente da Cardo, lo Show One, che qui vediamo in confezione coppia ma disponibile anche in versione singola, sistema che si integra completamente all'interno del casco. Vediamo ora il dettaglio del montaggio. Andiamo a prendere centralina, batteria e sistema di fissaggio della batteria, che con un semplice slide si va ad incastrare. Questi due supporti nascono per essere integrati nella parte inferiore del casco, quindi sotto i due guanciali, dove batteria si incastra in questa posizione, una, e la centralina invece dal lato sinistro, dove possiamo agilmente andare poi ad utilizzare i comandi con la mano che non è quella dell'acceleratore. L'interfono in questo caso è già stato applicato, unica cosa che resta ancora da fare è andare ad installare poi i due auricolari e il microfonino che troviamo all'interno della confezione. Come vedete sul casco non si nota praticamente il sistema interfono installato e ricordiamo che nasce anche per poter appoggiare il casco direttamente su una superficie piana senza andare ad interferire con i pulsanti dell'interfono. Qui parliamo di uno dei top di gamma comunque di Cardo per quanto riguarda le intercomunicazioni. Show One infatti è uno dei sistemi interfono più completi che esistono sul mercato e ci dà a disposizione diversi canali Bluetooth per cellulare, passeggero, ricordiamo che ha una portata di 1,6 km quindi riusciamo anche a comunicare veramente ad una lunga distanza, ha una radio FM integrata con 6 stazioni memorizzabili al profilo a 2dp quindi ci permette di ascoltare tutto ciò che di multimediale abbiamo sul nostro telefono e la regolazione automatica del volume a seconda delle funzioni quindi possiamo scegliere il volume a seconda delle nostre necessità. Altra funzione importante di questo interfono è la presenza dei comandi vocali. Con attivazione vox quindi riusciamo a comandare tutte le funzioni del nostro interfono senza mai staccare le mani dal manubrio. Nel caso comunque si voglia forzare quindi l'avvio di una chiamata interfono si possono utilizzare comunque i pulsanti sottostanti sia per la regolazione del volume che per tutte le altre funzioni dell'interfono. Ricordiamo che se avete uno di questi caschi di Shoei e avete già un interfono della serie XT o MC della Cellular Line è possibile andare a migliorare quella che è la qualità audio del vostro interfono semplicemente acquistando questo kit che si chiama ProSound che è studiato appositamente per tutta la gamma Shoei, GT Air, Pneotec e J-Cruise. E semplicemente si tratta di due casse Hi-Fi studiate per essere integrate completamente all'interno del casco e di un microfono nel caso di Neotec e J-Cruise che non hanno mentoniera un po' più performante per eliminare i rumori di fondo rispetto a quelli di serie. Per quel che riguarda lo Schubert M1 abbiamo metà dell'interfono già installato all'interno del casco poiché Schubert ha già integrato all'interno dei due guanciotti, due microfonini e due auricolari che come potete vedere non si notano assolutamente all'interno del casco. Per installare il sistema M1 studiato appositamente da Cardo per questo casco basta semplicemente infatti andare a rimuovere quello che è lo sportellino posteriore che vedete posizionato nella parte bassa del casco e notiamo già i connettori fatti su misura. Per installare l'SRC M1 sul nostro casco basta semplicemente andare poi ad incastrare l'interfono nella parte bassa. Ecco fatto. In questo caso vediamo già il nostro casco con l'interfono completamente installato dove abbiamo qui i pulsanti che ci permettono regolazione del volume e controllo delle funzioni. Vogliamo enfatizzare ancora una volta quella che è la semplicità di installazione di questo interfono e inoltre il fatto che comunque non si nota assolutamente il sistema montato sul casco. Ricordiamo che in entrambi i casi acquistando insieme casco e interfono li riceverete a casa direttamente installati e provati da noi. Nel caso invece di un acquisto doppio quindi di due caschi e due interfoni verranno anche affiliati tra di loro in modo che voi dovrete semplicemente utilizzarli. Vi invito a venire a scoprire questi prodotti sul nostro shop online www.oramonline.it slash shop oppure nel nostro store di Vio Miglia Est 935 a Modena. Ciao! Ciao!